Eccoci qui cari amici buongiorno primo giorno di ottobre ormai anche settembre 2020 è passato agli archivi ci aspetta questo mese che speriamo di fare il famoso vaccino anti influenzale bene ma siamo qui in questo primo video di oggi per parlare della coppa italia coca cola 2020 2021 con squadre di serie a serie b e serie c eri si sono disputate le partite del credito il secondo turno secondo terzo turno mi ricordo andiamo con i risultati la regina in casa supera il termo 1 a 0 cittadella novara 3 a 1 cosenza alessandri il cosenza alla meglio ai rigori cremonese arezzo 4 a 0 frosinone padua 1 a 3 pisa juve stabbia 2 a 0 pescara notaresco passe pescara ai rigori entella albinoleffe 2 a 1 ascoli perugia 1 a 4 empoli renate 2 a 1 lanerossi vicenza propatre ai supplementari passa 3 a 2 vicenza chievo catanzaro 1 cioè vince rigori il catanzaro lecce ferralpi salò 2 a 0 pordenone casarano 3 a 0 reggiana monopoli passa rigori la reggiana salernitana sud di tirol 3 a 0 venezia carrarese 2 a 0 brescia trapani non so perché ma a tavolino 3 a 0 per il brescia spallo bari vince rigori la spallo noi ci vediamo con il prossimo video dedicato alla card di wwe nxt tech cover 31 evento speciale che segue il pay per view del main roster di domenica scorsa quindi allo prossimo video buon proseguimento di giornata a tutti ciao